Buonasera, siamo alla terza partita di questo pomeriggio, in silenzio stampa l'altra squadra. Hanno giocato gli spettinati contro CR7 e gli spettinati hanno vinto 8 a 3. Presentatevi. Alessandro Limatola. Casandrino Vincenzo. Di Fiore Gabriele. Siamo stai uomini e donne. Come avete giocato? Benissimo, l'abbiamo umiliati, quello che aspettavo. Vabbè, allora il punto è che la partita è stata abbastanza combattuta. E assai. E voi alla fine stavate prima vincendo, poi loro hanno segnato, poi alla fine avete vinto lo stesso. Noi non facciamo i giocoliri in mezzo a campo, noi buttiamo i palloni nella rete. Ambo. Cosa vuoi sapere? Fammi qualche domanda. Ma a me la critica alla tua squadra. Una critica alla mia squadra? No, la critica alla mia squadra non la faccio. La mia squadra è giocata alla grande, troppo abbiamo perso un componente molto importante e fondamentale della nostra squadra. Però nonostante tutto abbiamo giocato alla grande. La squadra avversaria è un po' in difficoltà. Quando vogliono devono inserire anche un paio di scarpette e poi metterci i piedi dentro. Così può essere che riescono a fare qualche gol. Vuoi dire come fare tu un commento un po' più... Allora, sono contento che abbiamo vinto. Mi dispiace che non c'è l'altra squadra che li volevo congratulare per la grande prestazione che hanno fatto. Voglio dedicare il gol, posso dedicare il gol al presidente della squadra, Vincenzo Sorrentino, eccolo lì. Il nostro grande presidente. Ah, voglio dire una cosa. Che il giocatore più forte della Maverick, se questa è la seconda partita non segna un gol. Vabbè, hanno segnato Di Fiore quattro gol. Un gol Barone, un gol Polverino, un gol Polverino e un altro gol. Alla prossima facciamo giocare anche Andrea Martina. Facciamo giocare la squadra avversaria. E contro questa squadra lo possiamo fare giocare perché abbiamo fatto la passeggiata. Se non ce la fai, vai a dormire, se non ce la fai, vai a dormire, ciao. Un bacio. Vabbè, un bacio alla Maverick.